buonasera andrò a preparare una bella tartare di tonno abbiamo promesso dei piatti freschi stasera di preparazione con il tonno cominciamo la nostra tartare poi faremo anche dei paccheri con melanzani tonno e una tagliata di tonno ok abbiamo comprato il nostro bel tonno fresco mi rosso e qui lo abbiamo già tagliato piccolo piccolo per fare la nostra tartare quindi abbiamo il tonno il nostro coppapasta del pomodoro maturo guardate che il pomodoro adesso è stagione li trovate erbe aromatiche menta basilico prezzemolo arancia limone noci capperi un po di origano e ci metteremo anche qualche olivetta un attimo le prendiamo le nostre olivette tagliasche aggiungeremo anche delle olivette bellissimo andiamo a preparare la nostra salsina molto 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 semplice quindi adesso un bel pomodoro maturo questo è bellissimo bello colposo note piccioliamo tagliamo i pezzettini semplicemente e poi ci aiuteremo con il nostro ciao aiza buona serata con una struttura d'ora di immersione mettiamo nel nostro recipiente una tazza grande va benissimo ci mettiamo le noci qualche cappero senza esagerare perché ha un sapore molto forte ciao albert che voglio di gano non mi ha mai profumato un po di origano un po di basilico e possiamo all'olio ovviamente è stravergine questi piatti la farda padrone l'olio è stravergine e io ci metto anche un pochino del mio olio all'aglio e peperoncino appena appena un po poco poco pochino di sale possiamo frullare possiamo andare a frullare 2 minuti per i minuti per i minuti per i minuti perfetto ok la nostra salsa è pronta poi chiaramente dipende dal vostro comodoro è più o meno ricco d'acqua questa è abbastanza ricco d'acqua e questa la andremo a mettere a specchio sul nostro piatto quindi la adagiamo e poi accompagnerà il vostro piatto la vostra tartare ecco qui bene poi prendiamo il nostro torno spostiamo un attimo il nostro piatto ecco qua un pochino di limone spremuto ecco qui mettiamo il limone e poi grattugiamo la scorsa del limone e dell'arancia ciao Bill preparando una bella tartare di tollo sta sbizzarrendo un po' questo periodo fa caldo stiamo riparando un po' di piacchini freddi soprattutto con il pesce mettiamo anche la scorsa dell'arancia ci siamo ci siamo eh ok abbiamo messo la nostra arancia mettiamo un pochino del nostro olio quello condito con l'aglio e il peperoncino e un po' di alio extravergine e un pochettino di sale non tanto sappiamo che il pesce è già sapido di suo quindi non si aggiriamo mai quando si tratta del pesce per mettere il sale e poi si può sempre aggiungere dopo ok bene possiamo girare la nostra tartare il limone essenziale vi raccomando quando mariniamo il pesce è molto importante quindi abbiamo condito in modo molto semplice semplice come abbiamo potuto vedere ok bene abbiamo messo la nostra salsina a specchio che accompagnerà il piatto adesso andremo a mettere con la nostra coppapasta riprendiamo il nostro bel piatto eccolo qua posizioniamo il nostro coppapasta qui e possiamo mettere la nostra tartare lo vedete il piatto è abbastanza luce un picchiaio andrete a parare in questo modo ecco benissimo ok poi la nostra arancia la puliamo semplicemente in questo modo togliamo le pezzine togliamo le pezzine ecco ecco qui possiamo sfilare il nostro coppapasta eccolo qua e andiamo a posizionare la nostra arancia semplicemente vedete che bei colori che assumono molto solari molto estivi ecco fatto benissimo adesso ci mettiamo qualche olivetta mettiamo le nostre olivetta giasche ecco qua mettiamo le olive ecco fatto vedete quanto è semplice velocissimo e semplicissimo bene e il nostro piatto è pronto ci vogliamo mettere anche un pomodorino a decorazione? ma è perché no ci mettiamo un pomodorino ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua adesso un filo di olivista vergine e il nostro berchettino è pronto un pochino di sale lo mettiamo un filino di olio perché l'arancia è molto buona con il sale e l'olio un pochino di sale ecco qua e terminiamo con un filo d'olio qualche foglio in alimento per completare il nostro piatto benissimo la nostra tartare di tonno è bella e pronta bene vi mando un bacio un abbraccio ci vediamo alla prossima ricetta a tra poco ciao 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 Grazie.